Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Yeeeeh Oggi andiamo a fare una bella partitina a calcio perché siamo tutti e quindi sicuramente trasferiranno me dall'altra squadra E così deve essere Tanto per cambiare Procio Ecco Ah, va bene dai, andiamo in gioco E si parte, siamo tutti in squadra, si Oh, già partono E io, primo gol Oh, no È interessante Vai Hildan, passa e glielo faccio un amore No, no Vai, oh, palo, palo Guarda, ricorda Eccola Vai Mordo, qui sto, io un porta, vai Ah, rimbalzo laterale Ma che la sei scemo Che l'hai messa a pezzo, che piace Mamma mia Ma ci stavete, non importa Ho capito Che ce l'abbiamo a fare il portiere, che ce l'abbiamo a fare Eh, se gliela mettete in mezzo, come guarda, veramente Oh, così col Che le mani ne monta il portiere, guarda Dobbiamo riscaldare prima Manine monche, ma stiamo scherzando Brutti newbie Dai, dai, dai Non c'è nessuno Oh, oh, che l'ho carterata Attento, Esingaro, è pericoloso È pericoloso È pericoloso, Esingaro, è pericoloso È pericoloso Ok No, 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 no Mamma mia Oh, fico È pericoloso No Quasi Il danfantigliella Esatto, eccolo, eccolo, eccolo Eccolo Eccolo, gol, gol No Niente C'è, apriva Apreta l'angoletto Ma che cazzo i problemi c'hai Hai provato a succhiare? A soffiare Vai, vengilo Tu cacchio, ma sta balla Tocci tua Dai, sono spingiata la via A finirla la via Oh Ma già questo, maledetto Questi sono guerriti, eh Eh, sì Via Vai, signora banana Vai, Eldon, vai Eh, sì Domani Arrigato Ma io la tocco Ma la vuoto Eh, tutti la toccano, però Dai Guarda Non l'hai capito Ecco Alla, gol L'ho lanciato Sì che così Vabbè, dove veniva un attacco Qualcuno non ti importa Non mi chiude anche un po' No No, dai Dov'è? Eccolo Dai, è più Ah Eh, ha fatto passaggio all'indietro No Quanto la metta Io la vedo più la palla Eh, l'ho allontanata Al laterale No, riprendetela Ah Eccola, eccola Vai, Dan No Vabbè, come cazzo la piazza Stava 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 largo Pecciuti Bene, bene, bene Bene, bene No, no, no Centrale sta Sì, però l'hanno spinta in avanti Capite Gli è crashato qualcuno Gli è crashato qualcuno Sono giocato No, no, no Che tanto sta macchina? Mamma mia Grande Singar Almeno uno Eh, ok Sono ancora rosso Ah Oh Eccola che fa centrale Vai, vai, vai Con nessuno No Passare attraverso Tu si scema Dov'è? No, ma che Non lo so più Di là Eccola Che l'hanno buttata di qua Oh 40 secondi Eh, no Dai, in altri due gol 40 secondi La vedo molto brutta No, 40 secondi Mi vuole un pochettino Dai Vabbè, però non è possibile Quella centralizzano così, eh La centralizzano La centralizzano What the fuck Sono diventati Gli operai di centralizzazione Che cazzo è Ma che cosa fai? Di là Da La L'ultimobrahim Donle L'ultimo gold de corsa Eh, beh No L'ultimo gold de corsa Non a noi però No No Eh, ragazzi ho fatto a tempo nella pia ma non ho preso a porca miseria regalati la stanno in due ci stanno a falculo perché miseria ci stanno a falculo e che va a vergogna che vergogna che andava al diverso io non voglio più fatimo con voi e parte male ecco a parte male ma che cazzo lo stesso di prima contro è è lo stesso tizio e ue 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 dai ho presa che palle perché è andato con la tocca è andato con nato casato chi tu chi la tocca eccolo eccolo ditto per dritto tocchia palle no dove eccola no erano toccato che l'abbiamo prima di me vai guardo guardo ma io l'ho colpito le gambe in quattro in quattro porca troia sta cazzo le palla non si tocca oh oh chi è trunz what the fuck perché l'abbiamo in grado di diagonale non lo so non lo so però ma se fanno autogol no ecco perché presa presa vai vai cacca troia no presa oh che pulente che salvataggio che non si sa come oh vai su hildan no hildan che tiro brutto no devi mandarla dritta per dritta quella la golla eh dritta per dritta io c'ho la banana eh eh fai pure i piedi a banana a quanto quali no dai tiratela su no tu stai io non vedo la porta eh no ecco qua io io me guardo e vedo la fine della società eccolo no no ma la parata e fa pure goal oo nonari pare ooo o oh ekeit ma va famu ooo o giusto dai 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 ci si mamma mia giusto giusta garatti la vendetta la vendetta la vendetta est défin battanti uguale che cosa è successo lì eccola no è la fermata a rimandar centro però non era proprio tanto centro è che lei era dentro la porta nera centro a bella centro con la fatta a pesa io non aveva attenti poi si no 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 questo tiro da non credere il grande pepita ora mai siete imparati a fare i pallonetti qua presa non ci credo oh aspetta che qua rientra confermata non sa come dov'è eccola eccola rimbalza dai però va via e che la tiri contro il muro dovrebbe andare un cazzo diagonale no la par caccio zio e what o men e what o when la come si chiama eh dai eccolo al centro è troppo larga oh è ritornato al centro abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto e parte l'ultima partita di oggi e parte già male come al solito sempre dalla parte nostra non si sa perché vale ma ecco il giro beh eccolo 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 vai il mondo appartico con le cose impressionante e della casa lo so infatti fanno impressione fra ma quanto le tue parate tanto gliele levo caccia andata che si perde la vita avanti c'è la via del dritto ci gira del giorno la metto a mezzo grazie queenfer me la sposti cilenti metto qua non mi muovo più devi star centro qui al centro di così il centrocampista fai il centro ma signora banana dove tira banana ma chi ha detto io faccio il centrocampista scusate l'ha detto gesù l'ha fatto il dan io la radio da questo gruppo e l'ha data pure a quel tizio oltretutto capito manco perché all'ultima loro è proprio schifo l'ho fatto quello che cazzo volete prima la parte sbagliata del gol signori e signori vi presento per pepita mi hai fatto niente pepita no la pesa al volo quello che cerco di faiu ma non mi tocca la palla star più veloce di me attenzione dove non la vedo i danni non dare la partita già stiamo da zero no c'è ma in caso presa via montata io possiamo recuperare dai danni spaccagliela faccia dai ma una volta che la mettete al centro però è difficile messa al centro al centro al quartiere eh sì ecco qua però su buongiorno buongiorno caffè mi chiamate il centro al centro l'ha lanciata io le faccio davanti la valla non rietto eccola ho fatto delle impalli c'è però quando si fa gol a noi la valla declicca mortacci stracci è infatti capito trozzo a me già la pepita la pepita a margia no sta partita e non c'è la santa peppa a me è passata attraverso le gasteva bene è un dronco e lavora ma un uro praticamente pezzo di merda e aggiungo pure finocchio ecco perché schifi la finocchio va a cagare va a cagare va a cagare dai dai te lo ho detto il danni e killini fai colla a culo va a cagare oddio ho visto degli impalli brutti la mannaggia qui perché me l'ha deviata mancano pochi secondi è sempre colpa mia che cavolo e si ve l'hai toccata tu perché la mia traiettoria era giusta ma è bello che è tutto registrato vai perché hai tirato te la ma l'ho provato ma vaffanculo quella è il gol abbiamo perso per il gol di Hildan 3 a 2 che schifo che schifo non è vero non è vero schifo va bene ragazzi avete visto queste partite a calcio e ciò yeah l'abbiamo persa una miseramente ne abbiamo vinta una in modo fatto bene e poi ne abbiamo persa una per colpa del gol di Hildan autogol ho detto benemolo sto chiellini ci serve un cazzo ma va a vendere i pesci vaffanculo fai schifo fai schifo va bene va bene dai ragazzi lasciate tanti pollicioni condividete il video iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata ciao che limiti merda ciao